ciao a tutti e bentornati in un nuovo vuoto rettina day cosa mangio in un giorno anche oggi vi do alcune idee per i vostri pranzi cene colazione snack e utilizzeremo tantissimo l'avena oggi avevo un po di avena da consumare quindi se anche voi come me avete da consumare un po che fa per voi allora partiamo subito dalla colazione facciamo insieme la granola fatta con avena e riso soffiato è buonissima per mangiare di yogurt quei noiosissimi o anche da mangiare nel latte allora mettiamo l'avena e riso soffiato insieme poi ci mettiamo il burro d'arachidi lo sciroppo di agave se volete potete utilizzare il miele un po di granella di nocciole mescoliamo tutto insieme dopodiché stendiamo il tutto su una teglia con carta forno cerchiamo di livellare bene la granola in modo tale da avere una cottura omogenea dopodiché ci mettiamo anche un po di frutta secca come nocciole entere se volete anche le mandorle o altro poi la mettiamo a 170 gradi per circa 15 minuti ricordandovi di mescolare bene in modo tale che non si bruci la lasciamo raffreddare dopodiché sarà pronta da utilizzare sopra ai nostri yogurt io ci ho messo anche un po di goccia di cioccolato per renderla ancora più golosa si conserva benissimo in contenitori ermetici allora spinaci nefit fatte solamente con due ingredienti vi servirà 400 g di petto di pollo e 300 g di spinaci cotti e ben strizzati andiamo prima a tritare il petto di pollo all'interno di un mixer dopodiché cuociamo i nostri spinaci in abbondante acqua una volta cotti li strizziamo bene e li andiamo a mettere nel mixer con il petto di pollo aggiungiamo anche un po di spezie e quelle che preferite tritiamo i nostri complex e a questo punto siamo pronti per impanare i nostri le nostre spinaci quindi andiamo a creare le spinacine le impaniamo nel complex se vedete che il composto è troppo bagnato potete tranquillamente aggiungere un po di pangrattato per asciugarlo e queste vanno in forno per circa 20 minuti a 180 gradi comunque fin quando si saranno ben dorati e guardate che meraviglia a me ne sono uscite cinque non troppo grandi medie e quindi decidete voi regolatevi voi come farle se più piccole o più grandi io questo snack di solito lo preparo la mattina e lo lascio riposare tutto il pomeriggio in frigo è semplicemente un porridge freddo vado a mettere all'interno di una ciotola i miei fiocchi di avena e due cucchiai di questo non è proprio no yogurt è quello yogurt che vende la lidl ricco di proteine ed è almeno grano dopodiché ci metto il latte un latte a scelta un po di frutta fresca a pezzi in questo caso le fra che ho bene il tutto e lo lascio riposare in frigo tutta la giornata quando voglia di mangiarlo lo tiro fuori dal figolo condisco con un po di crema al cacao questa è fatta semplicemente con cacao acqua e sciroppo di agave e il mio porridge freddo è pronto le dosi di questo porridge sono per due persone allora passiamo alla cena facciamo delle polpettine con zucchine e carote facilissime da fare mettete all'interno di una ciotola le zucchine e le carote tritate mettiamo anche la buccia di mezzo limone sale pepe prezzemolo quindi tutte le spezie che volete i fiocchi di avena in alternativa pangrattato mescolate bene il tutto dopodiché aggiungete una ricottina da 100 grammi mescolate bene e iniziate a creare le vostre polpettine anche queste andranno o cotte in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti fino a doratura oppure se preferite potete anche cuocerle in padella con un filo d'olio o in friggitrice ad aria io metto un po di pangrattato e un filo d'olio e le metto in forno e le mie polpettine sono pronte le vado a mangiare con un po di insalata di finocchi sono buonissime provatele e per oggi è tutto spero che anche questo video vi sia piaciuto io vi mando un grosso bacio e alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti